oggi facciamo salotto con i ragazzi del teatro 8 di torino buongiorno a tutti noi siamo riccardo e davide per il laboratorio speed hub oggi presentiamo il re leone scena 3 ehi zio scar indovina io detesto gli indovinelli io sarò il re della rupe dei re oh congratulazioni il mio papà mi ha fatto vedere tutto il regno e io lo commanderò tutto quanto sì beh scusami se non salto dalla gioia la mia povera schiena sai ehi zio scar quando sarò tu che cosa sarai lo zio di un curioso sì così strano non ne hai la più pallida idea allora il tuo paparino ti ha mostrato tutto il regno vero tutto quanto ti ha fatto vedere che cosa c'è dietro l'altura del confine nord beh lì no ha detto che non ci possa andare una decisione assolutamente sensata e troppo pericoloso solo i leoni più coraggiosi ci possono andare io sono coraggioso cosa c'è mi dispiace simba non posso proprio dirtelo perché no simba simba mi sto solo preoccupando per il mio nipote preferito sì certo sono il tuo unico nipote una ragione in più per essere protettivo verso di te il cimitero degli elefanti non è un posto per giovani principi oh sono tutti sono alessandro oggi vi leggerò il primo anno di torino la prima orchestra italiana si è costituita a torino e da essa è nata l'orchestra dell'erio 3895 3895 e il 1921 a torino a torino funzionò un istituto funzionale un istituto musicale che riuniva l'orchestra municipale il liceo musicale la banda civica e la scuola di strumenti a fiato buongiorno a tutti sono lorenzo oggi vi leggerò l'oroscopo di torino il cancro il pianeta dominante di questo segno è la luna sono del cancro corso vittorio dove ci sono le carceri nuove piazza sabottino corso lione borgo san paolo e il palazzetto dello sport nell'oroscopo della città alla luna si congiunge saturno e ne risulta un influsso benefico per tutto ciò che di antico si trova sotto questo segno saturno è presente nella casa dei trasporti in questo borgo si trovava una delle più vecchie rimesse tramviarie buon pomeriggio a tutti sono antonino e oggi vi leggerò un testo dal titolo la bicicletta e il ciclismo è il contrario del ciclismo la bicicletta una sagoma profilata in viola fluorescente fa una discesa 70 all'ora e ciclismo due liceali affiancate attraversano un ponte a bruges e bicicletta il divario può diminuire biscelodiare in calzettoni si ferma a bere un bianchino al banco di un bar e ciclismo un adolescente in jeans scende di sella con un libro in mano e beve una menta a un tavolino e bicicletta sia dell'uno o dell'altro campo c'è una frontiera i lenti stradisti possono esibire quanto vogliono un manobrio di curvo e bicicletta gli sportivi possono forbire quanto vogliono i parafanghi e ciclismo meglio non fingere e ammettere la propria razza ci portiamo dentro la perfezione nera di una bicicletta olandese con una sciarpa al vento sulla spalla oppure sogniamo una bicicletta da corsa leggerissima con la catena che fruscia come un volo d'ape chi va in bici è un potenziale pedone che va a zonzo nelle viuzze che legge il giornale su una panchina chi fa ciclismo non si ferma fasciato fino alle ginocchi in una tuta neospaziale potrebbe camminare solo con i piedi a papera e non lo fa lentezza e velocità può darsi ci sono però macina chilometri in bicicletta molto efficienti e anziani ciclisti molto tranquilli allora pesantezza e leggerezza non basta sogno di spiccare il volo da una parte dall'altra familiarità marcata con il suolo e poi opposizione di tutto colori per il ciclista arancio metallizzato verde mela per chi va in bicicletta marrone scuro bianco sporco rosso opaco materiali e forme anche agli uni l'ampiezza la lana il velluto le gonne scozzesi agli altri l'aderenza in ogni tipo di tessuto sintetico si nasce bicicletta o ciclismo è quasi politico ma i ciclisti debbono rinunciare a quella parte di se stessi per amare perché ci si innamora solo in bicicletta buongiorno a tutti io sono francesco torino curiosa presenta via silvio pellico 31 la casa di gustavo roll proprio a torino nel 1903 nacque gustavo d'olfo roll uno dei più importanti e controversi veggenti e sensitivi della storia e in via silvio pellico una targa ricorda il luogo in cui abitò le parole di enzo biaggi sono forse le migliori per descriverlo vive a torino dottor gustavo d'olfo roll un sensitivo capace di imprese che non hanno nulla di normale che è impossibile interpretare è in grado perfino di fare viaggi nel tempo di conversare con entità che hanno raggiunto l'oltretomba da secoli o di far piombare in un salotto col beato della capra anche il suo campanaccio un busto di marmo pesantissimo senza che nessuno si muovesse passò da un caminetto al centro di un desco roll morì nel 1994 all'età di 91 anni bene ragazzi noi ci vediamo dopo buongiorno io sono lorenzo e oggi vi leggerò una mia opera che si intitola la leggenda dei guerri supremi il riassunto ogni leggenda può essere un misto di verità e bucie ma noi partiremo dove tutto ebbe inizio in un futuro dove il viaggio spaziale ha solo un obiettivo oggi l'uomo può viaggiare in tutti i pianeti della galassia ma di fronte al mistero e segreti dell'universo l'uomo conoscerà una cruda verità non siamo soli esistono creature simili agli umani ma diversi in ambito di biologia questi alieni vengono dal pianeta tergon e si fanno chiamare i tergoniani essi sono pacifici di fronte a chi gli è inferiore ma la terra ha deciso di creare una grande unione così nacque l'unione galattica nel 2877 con il passare degli anni hanno affrontato etità misteriose che il catalogavano come pericolo mortale immortale e divino questi ultimi sono i più pericolosi perché distruggono ogni cosa nel loro cammino per il volere del loro tiranno ma l'unione galattica è stata distrutta durante una guerra civile nel 2889 ma grazie agli sforzi delle nuove generazioni nel 2.992 rinasce una nuova unione le lame universali perché ogni pianeta rappresentasse una lama della vittoria adesso più nitti che mai i terrestri devono incompire un'ultima ricerca e risolvere questi misteri e delle entità misteriose chiamate adesso le divinità maligne dopo aver sconfitto il tiranno nonché il dio della distruzione le divinità buone e nuove razze aliene entrarono in armonia nel nuovo secolo il 2.900 ma per quanto tempo possa durare questa pace molti vogliono il potere pari alle divinità così iniziò un torneo nel 2.905 e i vincitori furono in terrestri questa vittoria scattori rivalità in tutti i pianeti ma l'attenzione svanì dopo l'omicidio di un re appena incoronato i pianeti entrarono in conflitto creando così una grande guerra universale dal 2.914 e il 2.918 molti soldati guerrieri morirono invece le danne universali avevano perso i loro guerrieri più forti purtroppo causate dall'indebolimento della guerra ma un dittatore evoluzionario sfruttò questo indebolimento per attaccarli di sorpresa questo dittatore voleva in tanto che l'estinzione delle divinità buone e di chiunque fosse loro alleato perché li considerava la causa di tutti i mali subiti su di loro ovvero gli immortali il dittatore dichiarò guerra nel 2.938 e si creò la grande guerra tra immortali e divinità ma il potere del dittatore risiede nel risveglio del dio della distruzione e dopo aver assorbito il suo potere il dittatore scese in campo per la battaglia finale solo sette valorosi guerrieri nonché i più forti lo affrontarono per impedire che il dittatore esaudisca il suo desiderio di genocidio ma il dittatore non voleva solo cancellare le divinità ma anche i mortali più deboli il più giovane guerriò tra i sette lo affrontò per ultimo mentre tutti i suoi amici erano sconfitti si sacrificò e modificò il suo desiderio il dittatore e per far ciò doveva combaciare allo stesso tempo l'annello della ristruzione che lo aveva il dittatore e il suo anello della creazione e quando si unirono arrivò un bagliore di luce che durò un minuto il dittatore era sparito mentre il giovane moriva accanto con i suoi sei amici guerrieri purtroppo più della metà degli esseri mortali venne cancellato tale esistenza e tutte le unità sparirono la guerra ebbe fine nel 2945 ma il costo delle perdite era peggio della guerra precedente l'intero universo consapevole dell'enorme perdita decise di cambiare ed iniziò così una nuova pace alcuni ricordano la guerra altri la dimenticano ma una cosa è certa fu la fine dell'anno universale e di un'era piena di conflitti ora tocca a noi scrivere una nuova leggenda ciao a tutti io sono giuseppe di artist bram e la scena di l'era graciale 1 va bene va bene cambiamoci cambiamoci io sono pronto a fare amicizia ma che sono un branco sì il cotto è così ehi mega dico che fa sozi c'era un atto hai sempre l'amore c'era oh cacchio oh santo ci comoda la miseria grazie a tutti gli speeder che hanno partecipato a questa nuova puntata di radio teatro 8 per oggi è tutto vi aspettiamo alla prossima puntata ciao